Siamo con Monica Larner, la prima corrispondente di Stanza 365 giorni all'anno in Italia della storia di The Wine Advocate e c'è stata anche la prima masterclass di The Wine Advocate dedicata al meglio dei vini italiani e toscani in particolare nei giorni scorsi a Siena. Che segnale è? Che cosa racconta questi due fatti? Cioè il tuo essere corrispondente fissa per la rivista dall'Italia, questa masterclass che segnale è per l'Italia del vino? La speranza di poter dare una voce del luogo per poter comunicare questi vini di eccellenza a chi vorrebbe conoscerli meglio da altre parti del mondo. Poi in particolare abbiamo scelto dei vini che rappresentano il meglio di due territori ovviamente, di Brunello di Montalcino e di Bolgheri. Abbiamo fatto questa degustazione direi storica perché abbiamo avuto l'onore di assaggiare dei vini di annate bellissime anche dei vini che nella storia di Wine Advocate rappresentano i vini che hanno avuto i maggior punteggi, i vini che hanno avuto maggior risalto anche da parte dei nostri lettori. Ci sono stati anche dei cento punti che sono un po' il traguardo del sogno per i produttori. Sì, c'era il 2000 di Redigaffi, Tuerita e anche il 85 di Sassicaia, due vini che Robert Parker stesso ha premiato con i cento punti. In particolare l'85 del Sassicaia ci ha detto Robert Parker il suo vino preferito di sempre. Una scelta quella di due territori, uno più storicizzato come quello di Montalcino, uno ugualmente importante ma magari più nuovo almeno se si accettano i grandi nomi, quello di Bolgheri, il segno di un'attenzione comunque a tutta la produzione italiana, una piattura non solo ai grandi classici? Sì, è un segnale per tutta la produzione italiana. Devo comunque ripetere la storicità del fatto di Robert Parker che ha dichiarato che tra tutti i vini nella sua lunghissima storia professionale, il suo vino preferito proprio del cuore, il vino che gli ha fatto diciamo più effetto nei assaggi, dopo 30 volte di assaggio, è stato proprio un vino italiano. Questo per me mi rende felicissima perché è proprio quello che vorrei comunicare, che il vino italiano partendo da una bellezza come Sassicaia ha tutto il futuro davanti a sé, siamo solo all'inizio. L'85 Sassicaia è un piccolo inizio di un futuro molto più importante. Ecco, due territori, Montalcino storicizzato, Bolgheri storicizzato in alcuni grandi nomi ma relativamente nuovo per le tante realtà che sono nate e ci raccontava Robert Parker, un'Italia che è cresciuta tantissimo in qualità, un po' in ogni dove, non è più soltanto Piemonte, Toscana e Veneto ma è anche Meridione, è anche vitigna autoctoni. Cosa vuol dire Monica raccontarla, raccontare tante realtà che magari per noi sono già conosciute ma all'estero forse neanche si sognano? Vuol dire molto lavoro per me, vuol dire molto lavoro proprio di cercare la chiave giusta per raccontare i posti che sono meno conosciuti i posti, Robert Parker ha nominato diversi posti nel sud Italia, in passato anche ha parlato della Sardegna, della Sicilia, dell'Abruzzo di regioni che sì, qui in Italia noi abbiamo la fortuna di trovare questi vini facilmente nelle nostre neoteche ma andando all'estero sono poco conosciuti, anche devo dire in questa esperienza dalla Masterclass uno ha anche modo di confrontarsi con un pubblico che magari ha anche meno conoscenza di un vino importante come il Brunello allora è bellissimo poter spiegare l'importanza di Sangiovese, l'importanza del territorio e anche il fatto, una cosa che ho parlato a lungo con Parker il fatto che per esempio il Sangiovese non può essere trasportato all'estero hanno fatto tantissime prove anche nella mia stessa California di lavorare con il Sangiovese, anche il Nebbiolo ma questi sono vitigni che alla fine non danno il buon risultato all'estero e per me questo è molto importante perché vuol dire è una marcia competitiva per l'Italia quei vini sono qui e sono un simbolo del loro territorio Parker ha detto l'Italia con i suoi vini migliori può ormai competere con i francesi tre caratteristiche che hanno fatto grandi i vini di Francia sono la qualità intrinseca, la longevità e anche la disponibilità ridotta almeno per i nomi top sul mercato tu che racconti l'Italia da tanto tempo, c'è davvero questa base, c'è davvero questo gruppo di produttori di vini, di territori che se la può giocare con i grandissimi francesi? sì, diciamo si sta sviluppando sempre di più come un gruppo importante che può avere il peso a livello internazionale poi dobbiamo sempre pensare che ci sono dei nuovissimi mercati che stanno aprendo l'Asia e altre parti del mondo, lo stesso Stati Uniti che sta diventando sempre più sofisticato nel loro gusto, nel loro ricercare vini da diversi vitigni fatti da territori meno conosciuti allora credo che siamo solo a un inizio ma comunque è un buon inizio e che c'è molto ancora da fare per sviluppare l'idea di un'Italia completa fatto di tantissimi diversi territori, tantissimi vitigni cosa vuol dire, cos'è la cosa che ti piace di più, anzi raccontare dei vini d'Italia o dell'Italia dei vini? allora per me è molto importante riuscire a parlare del vino italiano attraverso l'Italia del vino, infatti è un concetto che cerco di spiegare ai miei lettori sempre non è solo il vino ma è il contesto, è la tipicità, è la persona che l'ha fatto il cibo che viene abbinato con quel vino, il territorio, l'arte, la cultura, il paesaggio tutto quello è una specie di terroir, a me non piace la parola terroir mi piace più tipicità, fa tutto un insieme di cose che attraverso questo insieme il vino trasmette quello che rappresenta un'ultima domanda, quella difficile se le prime tre parole, i primi tragettivi che ti vengono in mente così di getto quando pensi all'Italia del vino? penso alla passione, sicuramente, penso al lavoro perché è sempre un prodotto che rappresenta tantissimo lavoro di tempo, di famiglia qui adesso siamo nel territorio del Brunello ogni cantina deve mettere a parte cinque annate per vendere il vino è una cosa incredibile e poi direi che penso alla parola futuro perché credo che tutta l'Italia del vino è proprio all'inizio siamo proprio all'inizio di un grande futuro